Andare al mare non sarà più una cosa semplice. L'INAIL, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, ha dettato le regole per la riapertura degli stabilimenti balneari. Innanzitutto gli ombrelloni dovranno essere posizionati a una maggiore distanza, 5 metri tra ogni fila e 4 metri e mezzo tra un ombrellone e l'altro della stessa fila, mentre il proprio lettino dovrà essere posizionato da almeno 2 metri da quello dell'ombrellone vicino. I dipendenti degli stabilimenti dovranno indossare guanti e mascherine, mentre i clienti dovranno coprirsi il volto solo sulla passerella e potranno levare la mascherina una volta giunti sotto l'ombrellone. Gli ombrelloni dovranno essere prenotati, anche per fasce orarie, e questo anche per poter rintracciare le persone in caso di contagi. Piscine e giochi per bambini dovranno essere chiusi e tutte le attrezzature dovranno essere igienizzate frequentemente. In caso di pioggia, inoltre, non si potrà più correre a cercare riparo negli stabilimenti, a meno che non si possa garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. La norma più controversa, però, riguarda quella del salvataggio in mare. La disposizione, infatti, recita che il bagnino, in caso di emergenza, non potrà più procedere alla respirazione bocca a bocca, ma dovrà valutare il respiro soltanto guardando il torace della vittima, senza avvicinare il proprio volto. Insomma, per non ammalarsi di coronavirus, potrebbe diventare più facile a negare, perché il soccorritore potrà solamente stare a guardare il petto del moribondo. L'Abruzzo conta di riaprire le spiagge già entro la fine di maggio, ma secondo l'assessore regionale al turismo, Mauro Febbo, le norme devono essere riviste. Dovessimo correre dietro ciò che hanno scritto queste linee, praticamente non riapre più nessuno, perché hanno già problemi, giustamente, in questo caso, per quanto riguarda i bar, hanno problemi sulla ristorazione, giustamente, questo lo riconoscono. Non si possono aprire i giochi, non si possono attivare le piscine, insomma, eccetera. Gli metti pure una limitazione, diciamo, dei ombrelloni di oltre il 70%, è chiaro che questi non riaprono. Ancora incerta la situazione delle spiagge libere. Qui dovranno essere posizionati cartelli con indicazioni chiare in diverse lingue sui comportamenti da dover adottare. Settimana prossima dovrebbe esserci un incontro tra comuni, capitaneria di porto e prefettura, e forse ne sapremo di più. Nel frattempo il sindaco di San Salvo ha annunciato che ci saranno delle guardie che potranno sanzionare chi non rispetta le regole, mentre alcuni balneatori chiedono di poter usufruire delle spiagge libere per recuperare le ombrelloni persi a causa del distanziamento in posto. Il rischio concreto è che vengano privatizzati anche gli scarsi residui di spiaggia libera lungo la costa abruzzese.